Buongiorno a tutti, grazie di aver avermi nominato. Anch'io ho votato FM. Ma che stai facendo un video? Ma che stai facendo un video? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che è il suo video? Mi vuoi un video per FM? Ah, un video per FM, bella cosa da... Sto prendendo dopo a Facebook, che di cose esce... E' come una giornata? Aspetta, qual è il sito, non mi ricordo il sito... Il sito è dove? Eh, votami.fmnet.it Mi raccomando, ragazzi, votate, perché votare è facile come bere un caffè. Eh, ho capito, dovremmo votare solo lui. Ok, Giacomo, non votare. Allora, i papà li dà un po' più un'acqua, forza. Ok, allora, nominiamo... Nominiamo, io direi, Evaluere Romani, che parte il protagonista, lui, e poi se ne parla, e fa il video. Io, Alessio, passa l'acqua. Alessio, passa l'acqua? Ah, sì, naturalmente. E scusa, eh, Silvia Ghezzi. C'è Silvia Ghezzi, però a questo punto estendiamo pure all'esterno, se no... Chi vi vediamo? La mia migliore amica Paola Borrello, mi raccomando, confido in te. Io anche Paola Borrello. Forza, votate FM. Forza FM, votate tutti. Allora, bloccato nel famigerato traffico romano, colgo l'occasione per ringraziare Donato Stoppiello della nomination. Vi faccio notare che io ci sto mettendo la faccia, mentre lui no, e posso capire perché. E, ovviamente, vi invito a votare FM per l'European Business Award. E vado con le mie nomination, che sono Alessandro Sassi, ovviamente, non si può tirare indietro, Luca Lattanzio e Carmela Ventura. Ciao! Ciao, saluteli! Ciao a tutti! Grazie a tutti da Cassio per la nomination, che mi dovrò fare in più questo video, anche se mi trovo spesso con il mio location. E potete votare anche voi FN, partitellisti che trovate indietro. E per la nomination dovete votare? Grazie a tutti! Grazie Daniele Vezzani per avermi nominata. Anch'io ho votato a FM e adesso chiamo altre sei persone ed invito a loro volta a nominarne altre tre. Domenico Lopriore, Giulia Fedele, David D'Accasci, che dovrà fare il video in arabo, Riccardo Rossini, che invece dovrà farlo in inglese, Maria, mia cugina, che sicuramente mi supporterà in questa cosa, e Antonio Scorziello. Grazie, ciao! Ciao a tutti! Voglio ringraziare Adagrappone per la nomination. Anch'io ho votato a FM e a mia volta voglio nominare alcune persone. Innanzitutto Elena Lucentini, poi voglio nominare le mie due amiche fuori sede, Sara Tassi e Livia Barberi e la mia amichetta Ginevra Guacci. Mi raccomando, votate a FM e fate anche voi il video. Ciao a tutti! Grazie Adagrappone per avermi nominato. Anna Kamena sa votat a FM, la no EFM mis best la l'Italia, EFM la kelle l'alam. In pratica, votate pure voi EFM. Trovate il link nei commenti sotto. Nominano adesso Elisa Massa, Davide Migliacci e Luca Perciarcante. Ciao! Levanta-se torcida gringa! Levanta-se torcida brasileira! Quindi, io già votatei a FM e ho una passion per questa impresa. Tutto il mondo deve votare. Voi anche vedere il link dove mettere il vostro post in internet. Voi che a gente va a ganhar il premio europeo Business Award. Nient'altro, ancora. Solo per gli italiani. Troppo velocemente. Bisogna votare FM. Nomino tre persone. Antonio Checio, Giovanni Casaretti e Michele Di Giulio. Votate, gente! Vamo! Ciao a tutti! Ringrazio Aniele Mezzani per la nomination. Anch'io ho votato FM e invito a votare e nominare altre tre persone. Claudia Summo, Francesco Botti, Giuseppe Franchino, Donato Stoppiello e il Dottor Culli. Ciao! Ciao a tutti! Innanzitutto ringrazio Riccardo per avermi nominato. Anche io ho votato FM per l'European Business Award. E a mia volta vorrei nominare altre quattro persone. Giovanni Schirizzi, Fulvia Trivelli, alla quale chiedo di fare il video in francese. Valentina Davide e Chiara Garogrese. Mi raccomando, votate il link. Grazie a tutti. Ciao! Buongiorno a tutti. Allora, grazie a Laura per aver nominato. Io, come lei, ho votato per FM. E io vi domando a tutti di aiutare a voler in Europa, in votare con noi, in seguire il link ci-dessus. A mia volta sono Andra Marini, Giuseppe Bicciotta, Sara Benigni e Riccardo Martino, chi dovrebbe fare un video e non mettere il canale a loro fuori. E di nuovo, votate, votate, votate. Grazie. Innanzitutto grazie a David Cash per avermi nominato. Con il nostro voto all'European Business Awards abbiamo vinto il titolo di National Champions. Adesso aiuta anche tu e FM a diventare European Champions. Vota al link che troverai nei commenti. Innanzitutto io vorrei invitare a votare Francesca Margherita, Eugenio Perciaccante e Michelangelo Maffucci. Ragazzi, votate. Ciao a tutti. Allora, intanto vorrei ringraziare la nostra Presidenta Dilma Rousseff del Brasile per avermi nominato. e vorrei dirvi, anche io chiaramente, ho votato qui per l'European Business Awards, al quale stiamo partecipando e sono convinto che vinceremo, e vorrei nominare Nicola Martinelli, Sabrina Carini, la nostra firma bensiliera, e Daniele Grasselli. Tutto questo procedo come promesso. Ciao. Grazie a tutti, come vi! Quero agradecer a Presidenta Dilma por ter nomeato mio capo Alessandro per una declarazione e per essere nomeato anche per fare questa declarazione pedendo aos miei coleghi e i miei amici che votino alla IFM per essere vencedora del European Business Awards 2015. Aproveito para indicare i miei 3 amici, Fernando Figueiredo, Federica Capraceca e il excelentissimo advogato, dottor Rogério Carlinho.